Ciao famiglia Nerazzurra, bentornati nel nostro canale di notizie del miglior club d'Italia. Se sei nuovo qui, ti chiedo di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto quello che è successo nella squadra Nerazzurra. Siamo lieti di presentarvi novità esclusive ed entusiasmanti. L'ex giocatore del nostro amato club, Danilo D'Ambrosio, ha recentemente utilizzato il suo account Instagram, trasmettendo emozione e determinazione parlando di questa nuova tappa della sua carriera. Ha espresso la sua profonda gratitudine per gli anni dedicati all'Inter, il club che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Con parole piene di emozione, ha sottolineato l'amore e il rispetto che nutre per i tifosi e per tutte le persone coinvolte nel club. Nell'annunciare il suo passaggio al Monza, D'Ambrosio ha sottolineato che sta affrontando questa nuova avventura con entusiasmo e determinazione, caratteristiche che lo hanno sempre definito un professionista esemplare dentro e fuori dal campo. Il giocatore si è impegnato non solo a dimostrare il suo senso di responsabilità, ma anche ad affermare la sua carriera di successo attraverso azioni concrete, come ha sempre fatto indossando la maglia dell'Inter. Con le sue stesse parole, D'Ambrosio ha chiarito che metterà tutto il suo cuore, dedizione e impegno in questo nuovo viaggio al fianco dei suoi nuovi compagni di squadra a Monza. Con uno spirito guerriero e un'incrollabile volontà di vincere, è pronto ad affrontare le sfide che si presentano per perseguire gli obiettivi fissati dal club. Da tifosi appassionati, siamo certi che i ricordi di D'Ambrosio rimarranno per sempre nei nostri cuori perché ha lasciato un segno indimenticabile durante la sua permanenza all'Inter. La sua professionalità, dedizione e amore per la maglia saranno sicuramente ricordati e ammirati da tutti noi. Commenta qui sotto questa nuova fase della carriera di Danilo D'Ambrosio. Vogliamo sentire cosa pensa ognuno di voi di questo cambiamento e come pensate che si distinguerà a Monza. Ringraziamo tutti per seguire il nostro canale YouTube e per far parte di questa incredibile comunità di tifosi dell'Inter. Continueremo a offrirti tutti i contenuti interessanti e informativi. Forza Inter per sempre!